A retroscena Massimo Popolizio e Maria Paiato ci svelano la crisi della democrazia, umiliata da demagogia, interessi e compromessi. Un nemico del popolo! Che bella invenzione è sto popolo! E a seguire la strage di Fucecchio in uno spettacolo per non dimenticare. Non è gratis la libertà, dobbiamo essere testimoni per le future generazioni. Non perdiamoci di vista!